Di Simic, Simeone, il ciolo, mette in mezzo ed è gol! Gol dell'Inter! L'ultimo tocco è di Ngottì! Gol dell'Inter dopo sette minuti! Il traversone stava per finire tra le braccia del portiere Abbiati. In scivolata Bruno Ngottì ha infilato la propria porta. Ha colpito malissimo il pallone, palla che era già nelle mani di Abbiati praticamente. Il traversone di Simeone e questo è l'errore di Ngottì, nulla da fare per Abbiati. Andiamo a rivedere, questa è la visuale del portiere che era praticamente pronto a raccogliere il pallone da terra.